Era necessario? No, chiedo per un amico Eh, niente, niente, oggi non è giornata Ciao a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale Altro misoncino di GTA 4, signori Ancora per Playboy X E vi voglio umilmente chiedere scusa per quello che è successo nella missione scorsa Purtroppo il mio PC è dato di matto E quindi niente da fare Mi sono puppato E ovviamente anche l'editing di tutta quella cagata lì non è stato per niente semplice Oggi siamo tornati in forma Oggi sono sicuro che andrà bene A meno per le prossime, penso, 5, 6, 7 missioni Torniamo ancora con Playboy X E vi spoilerò che ci daranno qualcosa di nuovo Qualcosa che abbiamo già Ma ce lo danno più nuovo Senza perdere altro tempo Io passerei a GTA Ovviamente prima vi chiedo il like, la iscrizione e la campanella Quello ormai è una cosa fissa Oh, nicchino nazionale Io ma ogni partita vado a salvare Incredibile Allora Come sempre Taxi E come sempre Sono sempre tre coglioni Appena ho bisogno di uno Non lo trovo Era necessario? No, chiedo per un amico Eh Niente Niente Oggi non è giornata Allora Anche la missione di oggi Esattamente come la Knights Che vi spiegai che La maggior parte delle missioni di GTA 5 Ha diverse soluzioni Anche oggi Ci sono due soluzioni principali Per questa missione E ve le andrò a mostrare Ovviamente Ve le andrò a spiegare A tempo debito Intanto ci guardiamo la cutscene Che Quando si tratta del trio unico Playboy E Dwayne Forge È sempre Una Balangata di risate Alivano I give him time Ed è giusto Sì For real E Listen G Dwayne Ain't the only thing I got on my mind No 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 Some mother f***er's Be calling me a phone Calling me a snitch Calling me all kinds of bull s*** Big deal Yeah Big deal Damn right Until I discover That same mother f***er Well he's got some real loose lips Ecco, momento particolare Che ci dà qualcosa E? Ah! Il Livornese è diventato anche americano? Sono sporcato di inchiostro, cazzo Guardate qua Ma è esplosa la penna Che cazzo sta succedendo? Eccolo, eccolo Niente, mi devo andare a pulire le mani Prima di continuare la missione Che palle Ok, intanto vi faccio vedere la novità Poi mi vado a pulire le mani Eccolo qua Il nuovo telefono Comunque, taxi Destinazione Allora ragazzi In questo posto C'è quella gang Di tre ragazzini Allora Soluzione 1 Quella che ti richiede il gioco Fai la foto appunto Ai membri della gang E la mandi a Playboy X Per questo ho girato il telefono Opzione 2 Uccidi tutti quanti Ovviamente la foto da qua Non la posso fare Magari non mi ammazzate Grazie Opzione 2 Opzione 2 Che viene richiesto Anche se alla fine Non cambia veramente niente Marlon No bastardo Se ne sta andando Bastardo Vai A posto Ecco Diciamo che Avendo mirato Avessi mirato anche senza far la foto Sarebbe andato a finire così ugualmente Comunque ragazzi La prossima missione sarà per Dwayne Ok che dovrebbe essere tra l'altro Questo qua vicino Esatto Quindi tipo neanche doverci spostare più di tanto Allora io ne approfitto per salutarvi ragazzi Andrò a salvare più tardi Fermate Breve Coincisa questa missione Come piacciono a me Grazie per la visione Signori Guardate le mie mani Che cazzo Ci vediamo alla prossima Con la prima missione per Dwayne Bacione ragazzi Grazie